A seguito delle elezioni all'unanimità di Roberto Battaglia come presidente del Consorzio di Bonifica Nord, sono state delineate le strategie per il futuro che passano dall'importanza della gestione sostenibile e delle risorse idriche. I primi compiti che dobbiamo necessariamente affrontare sono quelli di capire le urgenze che ha il Consorzio, urgenze che derivano ovviamente dall'attività consortile stessa, la salvaguardia del territorio e soprattutto il ruolo imperativo del Consorzio stesso è quello di fornire acqua per l'irrigazione. In questi ultimi anni stiamo assistendo veramente a un cambio di quelle che sono le condizioni climatiche e questo accentua l'importanza di avere l'acqua quando serve. Quindi dobbiamo anche andare a rivedere alcune strategie significative del Consorzio di Bonifica, la può soprattutto agire sull'opportunità di dare acqua per più mesi rispetto al precedente periodo. Questo ormai è diventato una necessità alla quale non ci possiamo sottrarre e soprattutto bisogna lavorarci perché le linee sono obsolete, vanno adeguate e tutti i lavori di messa in sicurezza e sviluppo vanno programmati. L'obiettivo principale sarà quello di ristrutturare la rete di canali e la rete idropotabile favorendo gli investimenti per ridurre gli sprechi di risorsa idrica a disposizione del mondo agricolo. Sì, dobbiamo tenere presente che molte linee hanno più di 40 anni, come tutte le macchine e anche questa è una macchina che ha bisogno di aggiornamento e manutenzione. Sono nel recente passato anche stati acquisiti altri territori di Bonifica e quindi anche lì bisognerà intervenire ma soprattutto direi che lo sviluppo fa parte di un processo che comunque va perseguito con costanza, questo è innegabile. Lo sviluppo del consorzio passa necessariamente attraverso la produzione dei fondi legati all'attività del PNRR che ovviamente sono un percorso molto molto complicato, soprattutto nelle fasi attuative. Chiediamo alla politica di essere presente con costanza a fianco al consorzio, ma non solo al nostro consorzio, in regione Abruzzo ne abbiamo altri quattro, perché sono elementi indispensabili per il territorio.